Com'è andata? Sono ancora convinti che mi ha mandato lei a New York. Gli hai detto che non è vero? Sono ancora convinti che mi ha mandato lei a New York. Anche se è vero. Mi ha detto lei dove trovare il tuo anolato, Silente. Sapeva che l'avrei portato a casa e l'avrei fatto passando per un porto a Babano. Oh, ho sempre sentito un'affinità con i grandi uccelli magici. Si racconta nella mia famiglia di una f***a un'altra che accorre nell'estremo bisogno da ogni silea. e le si dicono che il mio bisnonno ne avesse una. Con tutto il rispetto, professore, non credo che sia per questo che mi ha parlato del tuono a tuo lato. A tuo lato. Crite a Parigi, Gnotza. Per rintracciare la sua vera famiglia. Senz'altro, hai sentito le voci su chi è lui realmente? No, no, no. I purosanas pensano che sia l'ultimo di un'importante perpe francese. Un babà che tutti davano per perso. Non è non. Lo so. Io so questo. È l'unico amico. Se Credence ha un vero fratello o sorella o sorello o fratella che possa prenderne il posto, lui si può ancora scolvare. dovunque sia Credence a Parigi o è in pericolo o è un 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 pericolo per gli altri. Noi non sappiamo ancora chi è, ma lo dobbiamo trovare. E... E... Noi non sappiamo ancora chi è, ma lo dobbiamo trovare.